I ragazzi di voi, studenti, braccianti, operati, il sole del suo Champions, forza nuova, orgoglio nazionale! Dove sono gli antifascisti? Dove sono gli antifascisti? Voglio rinforzare, voglio rinforzare, voglio rinforzare, voglio rinforzare, voglio rinforzare! Vini dalla casa, vini per loro! Non ce la abbiamo a noi! Perchè? Perchè? Perchè questa ragazza sarà spogliata di vestita? Perchè non sono stati avvertiti i genitori? Perchè quel povero corpo, martorizzato? Chi non fa andare il Patrionio a San Lorenzo? Non sono quattro scureggioni antifascisti di cui conosciamo solo le spalle, ma sono la polizia, sono le forze dell'ordine, sono i cenerini. No, metteremo gli antifascisti! Chi sono? Faremo l'intervole volontà del campo. A degrado! Siete degrado! Un pezzo poi c'è la chiede le grazie abbassando lì! Ma non mi ringrazio! Ma non c'è una pezzatura! Oh, 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 oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ma non è verissimo! Non c'è una pezzatura! Non c'è una pezzatura! A casa! Non so, le vediamo che le vedete di tra me e me le ricordate! Non ce l'ho! No, vabbè, io non ce l'ho! Non ce l'ho! Sai, giornalisti per fare una cosa mediatica a loro! Ma le pare normale! Oh, vedo una cosa mediatica a loro! Non mi puoi ripiare lì, va! Andiamo a ripiare! Anzi, eravamo in 5 e 6 e potevamo pensare che c'era il documento! Che potevamo rischiare il documento! Non c'era la mamma rischiare! Non c'era la mamma rischiare così! Chi sa, no! Secondo lei, quello che dice lei! Secondo lei! Però io non pensavo! Ma scusa, ma io manda rischio la quinta! È davvero però! Ma io mandava rischio! Grazie